Buongiorno ragazzi, nelle lezioni precedenti abbiamo ottenuto la legge di stato dei gas perfetti analizzandola da un punto di vista macroscopico. L'espressione finale alla quale siamo giunti era, se vi ricordate, questa, dove abbiamo a che fare con quattro grandezze macroscopiche. La pressione, il volume, il numero di moli di gas presenti nel nostro sistema e la temperatura assoluta, mi raccomando, temperatura assoluta. Le ipotesi che, diciamo, avevamo posto alla base della nostra trattazione erano che avessimo a che fare con un gas rarefatto, quindi diciamo con un numero di molecole piccolo rispetto al volume che avevamo a disposizione e che ci trovassimo a una temperatura decisamente maggiore rispetto alla temperatura di liquefazione del nostro gas. Oggi vogliamo riprendere questa trattazione ma, diciamo, approfondirla e analizzarla da un punto di vista microscopico, quindi trasferendo la nostra attenzione a quello che accade, diciamo, avendo a che fare con le molecole che compongono il nostro gas. Quindi andremo a considerare, diciamo, la visione microscopica considerando il numero n di molecole di cui è composto il nostro sistema e le considereremo essere piccolissime e avere un volume sostanzialmente trascurabile rispetto al volume del recipiente col quale avremo a che fare. Quindi, per darvi un'idea, diciamo, del tipo di sistema che andremo a trattare vorrei proporvi un video. Nel video abbiamo sostanzialmente osservato le tre ipotesi che sono la base della nostra trattazione. La prima riguarda, appunto, la presenza di forze di attrazione nulle tra le particelle, le molecole che compongono il nostro sistema. Questa ipotesi deriva dalla precedente ipotesi che avevamo, diciamo, già sostenuto affrontando la trattazione dal punto di vista macroscopico, in cui avevamo detto che il gas era rarefatto. Quindi, rarefatto significa che le distanze tra le varie molecole sono molto grandi e che quindi la possibilità di interazione tra le stesse sotto forma di urti o, diciamo, di attrazione di tipo intermolecolare è statisticamente molto bassa. La seconda assunzione che facciamo nella trattazione è che, come avete osservato, il moto delle particelle sia sostanzialmente un moto continuo, un moto disordinato e un moto che sia indipendente, diciamo, le une rispetto alle altre. Chiameremo questo moto moto di agitazione termica delle molecole, del nostro gas perfetto. Infine, come avete già osservato, la terza ipotesi è che l'interazione con l'esterno si produca urtando elasticamente le pareti del recipiente all'interno del quale il nostro gas è contenuto. Nota bene, vi sarete accorti che tra un urto successivo e l'altro la traiettoria che seguono le particelle è di tipo rettilineo. Quindi, abbiamo a che fare con dei fenomeni che abbiamo già affrontato in meccanica classica. In particolare, abbiamo osservato dei motti rettilinei che vengono seguiti dalle nostre molecole e degli urti elastici contro la parete. Possiamo quindi sfruttare le leggi della meccanica che abbiamo fatto nostre nel corso del primo quadrimestre e utilizzarle per riuscire a formulare una trattazione microscopica della legge di stato dei gas perfetti. Dunque, una trattazione dal punto di vista meccanico comporterebbe il dover seguire una ad una tutte le particelle che compongono il nostro sistema. Potete facilmente immaginare che questo approccio non sia perseguibile in quanto abbiamo a che fare con numeri di particelle che sono di ordine di grandezza del tipo 10 alla 20, 10 alla 21. Quello che si fa è che si segue un approccio di tipo statistico. Andando a considerare i valori medi delle grandezze che interessano la nostra analisi, in particolare affronteremo l'idea di dover lavorare con la velocità media delle particelle e con la loro energia cinetica media. Riprenderemo poi in seguito nelle lezioni future questi concetti. Quindi, l'idea è di partire da una trattazione microscopica del sistema per poi riottenere nuovamente le leggi dei gas già viste, la legge di Boyle, la legge di Guy-Lussac, per poi riuscire a descrivere le grandezze macroscopiche che in genere sfruttiamo per determinare lo stato di un gas, quindi la temperatura, il volume, la pressione. Il primo passo per affrontare questo problema consiste nel partire dall'interpretazione microscopica della pressione. L'idea di base è che, secondo il modello molecolare del gas perfetto, la pressione sia dovuta agli urti delle molecole contro le pareti del recipiente. Quindi questa è l'idea di base e adesso cercheremo di sviluppare attraverso i calcoli questo concetto e dare una giustificazione matematica.